L'umiliazione di Canossa, un evento storico che ha cambiato il corso della storia. L'umiliazione di Canossa è un evento storico avvenuto nel 1077, durante la lotta per le investiture tra il papato e l'impero. L'imperatore Enrico IV, scomunicato dal papa Gregorio VII, fu costretto ad umiliarsi davanti al pontefice per ottenere la revoca della scomunica. Il contesto storico in cui si inserisce l'umiliazione di Canossa è quello della lotta per le investiture, un conflitto che vedeva contrapposti il papato e l'impero per il diritto di nominare i vescovi. Il papa sosteneva che tale diritto spettava solo alla chiesa, mentre l'imperatore sosteneva che spettasse a lui, in quanto sovrano. La lotta per le investiture aveva già avuto dei precedenti, ma fu con l'umiliazione di Canossa che il conflitto raggiunse il suo apice. Enrico IV, che aveva già sconfitto il papato in battaglia, fu costretto a umiliarsi per ottenere la revoca della scomunica. L'umiliazione di Canossa ebbe un profondo impatto sul corso della storia. Da un lato, rafforzò la posizione del papato, che si affermò come una potenza politica di primo piano. Dall'altro lato, indebolì la posizione dell'impero, che vide ridursi il proprio potere e la propria influenza. I fatti. I fatti che portarono all'umiliazione di Canossa si svolsero nel seguente modo. Nel 1076, Enrico IV, imperatore del Sacro Romano Impero, si scontrò con il papa Gregorio VII per il diritto di nominare i vescovi. Il papa scomunicò Enrico IV, che si trovò in una posizione molto difficile. Enrico IV decise quindi di intraprendere un viaggio penitenziale a Canossa, dove si trovava il papa. Il 25 gennaio 1077, Enrico IV arrivò a Canossa e si presentò davanti al castello, dove si trovava il papa. Enrico IV, vestito con un saio e scalzo, attese per tre giorni e tre notti davanti al castello, in una bufera di neve. Il 28 gennaio, il papa Gregorio VII concesse la revoca della scomunica. Le conseguenze. L'umiliazione di Canossa ebbe un profondo impatto sul corso della storia. Da un lato, rafforzò la posizione del papato, che si affermò come una potenza politica di primo piano. Dall'altro lato, indebolì la posizione dell'impero, che vide ridursi il proprio potere e la propria influenza. L'umiliazione di Canossa segnò la fine dell'età feudale e l'inizio dell'età moderna. Il papato, grazie alla sua vittoria, si affermò come una potenza politica e religiosa di primo piano, che avrebbe continuato a influenzare la storia europea per secoli. L'interpretazione storica. L'interpretazione storica dell'umiliazione di Canossa è stata oggetto di dibattito per secoli. Alcuni storici hanno visto l'umiliazione come un atto di sottomissione da parte di Enrico IV, che avrebbe dimostrato la superiorità del papato. Altri storici hanno invece visto l'umiliazione come un atto di diplomazia da parte di Enrico IV, che avrebbe ottenuto la revoca della scomunica senza rinunciare alla propria autorità. In realtà, l'umiliazione di Canossa è stato un evento complesso, che ha avuto molteplici interpretazioni. L'interpretazione più probabile è che l'umiliazione sia stata un mix di sottomissione e diplomazia da parte di Enrico IV. Enrico IV, che si trovava in una posizione molto difficile, ha deciso di umiliarsi per ottenere la revoca della scomunica, ma ha anche ottenuto un risultato importante, ovvero il riconoscimento della propria autorità da parte del papato. La rilevanza storica. L'umiliazione di Canossa è un evento storico di grande rilevanza. Ha segnato la fine dell'età feudale e l'inizio dell'età moderna. Ha anche rafforzato la posizione del papato, che si affermò come una potenza politica e religiosa di primo piano. L'umiliazione di Canossa è un evento che continua ad essere studiato e discusso dagli storici. È un evento che ha avuto un profondo impatto sul corso della storia europea e che continua a influenzare la nostra comprensione del passato.